Ci troviamo qui in compagnia del presidente del Rotarac di Vallo, il signor Vincenzo Salsano per dare una notizia ai telespettatori di Cilento Channel in merito al prossimo concerto di Natale che ci sarà qui a Vallo della Lucania, previsto per il 21, vero signor Presidente? Ci può raccontare di che cosa si tratta? Ok, il 21 dicembre come già anticipato ci sarà il concerto di Natale insieme, in collaborazione con il maestro Iacovazzo del coro di Ocisano di Vallo della Lucania, è una serata di beneficenza, il costo dell'ingresso di 5 euro che verranno devoluti all'AIRC, questo progetto è nato insieme al club di Siena, il Rotaract di Siena e loro il 13 dicembre in occasione della festività di Santa Lucia faranno dei mercatini dove venderanno dei prodotti dell'AIRC, quindi sia la nostra serata che la loro serata con il ricavato verrà donato all'AIRC, un progetto comune che faremo insieme. Chi può accedere come iscritto al Rotaract di Vallo della Lucania? Chi è residente solo a Vallo oppure possono accedere altri giovani di altri comuni? Il nome preciso è Rotaract Vallo della Lucania Cilento, quindi di base possono partecipare tutti i ragazzi compresi da 18 ai 30 anni che abbiano voglia di impegnarsi nel solidare e nella propagazione della cultura. Siamo aperti a tutti, basta contattarci in qualche modo e noi saremo ben lieti di ospitarli e se vogliono far parte della nostra grande famiglia di accoglierli.